Un fatto importante è accaduto nei giorni scorsi, un fatto passato sottotraccia perché è azzerato dal chiasso che si è verificato intorno al Festival di Sanremo e intorno alle preoccupazioni certamente legittime di fronte al virus che peraltro sembra un via di diminuzione. Quale fatto? Si tratta del suicidio del capo dell'Isis, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Kurashi, il leader dello Stato islamico che si è fatto esplodere in un paese al confine tra Siria e Turchia dove si era rifugiato e dove le forze speciali americane lo hanno individuato e fatto oggetto di un attacco, così come ha scritto in quel bellissimo post la nostra amica Silvia Scaranari sul sito di Alleanza Cattolica. Sarebbe una buona cosa se non ci dimenticassimo dell'esistenza di questo fenomeno, cioè del fenomeno del terrorismo di matrice islamista, che è stato ridimensionato dalla sconfitta del califato in Iraq e in Siria, ma non è finito. Molti suoi combattenti sono in prigione, sono nelle prigioni e nelle carceri gestite dai kurdi e per questo nei giorni scorsi gli islamisti hanno assaltato un carcere siriano per cercare di liberare i loro compagni detenuti. Sarebbe bene che non ci dimenticassimo anche delle tappe del processo di ascesa di questo risveglio islamista che comincia con la rivoluzione shiita di Khomeini in Iran nel 1979, continua con i successivi movimenti fondamentalisti nei paesi sunniti. Si manifesta al mondo in maniera eclatante con la strage delle torri gemelle dell'11 settembre del 2001 e in quelle successive, ma anche in quelle precedenti, nelle grandi città europee, a Madrid, a Parigi in modo particolare. Perché dico questo? Perché non avere memoria del passato, cioè dimenticarci questa storia che è una storia recente, molto recente, ma che sembra ogni tanto uscire completamente dai nostri ricordi, dimenticare tutto questo predispone alla ripetizione del male che appunto non abbiamo voluto ricordare. In questi giorni sto leggendo un libro uscito 40 anni fa, ma che purtroppo non lessi allora. Si tratta del libro La cultura del narcisismo di Christopher Lash, uno studioso americano che spiega la crisi del mondo liberale e la trasformazione dell'homo economicus, che è un po' stato il modello, diciamo così, della civiltà dell'epoca liberale, in un uomo divorato dall'ansia, così lo definisce lui, un uomo che ha dimenticato, che disprezza il passato, perché è innamorato del progresso, di un progresso a tutti i costi, ma che proprio perché disprezza il passato è incapace di costruire un qualsiasi futuro migliore del passato, è un uomo abbarbicato sul presente e su se stesso, un uomo, spiega questo studioso, un uomo narcisista appunto, concentrato ansiosamente su se stesso, sulle piccole cose di una vita senza speranza, una vita sazia e disperata, direbbe il cardinale Giacomo Biffi, così come lo diceva a proposito della popolazione della sua diocesi, Bologna, che guidava molti anni fa, una popolazione peraltro quella occidentale sempre meno sazia e sempre più disperata. Le conseguenze della cultura del narcisismo non si riflettono soltanto sulla politica, ricordo, o sull'antipolitica, ricordo le bellissime riflessioni di Giovanni Orsina nel suo libro La democrazia del narcisismo. Ma le conseguenze riguardano la vita di ciascuno di noi, anche di quelli che si onorano di combattere questa cultura del narcisismo, una cultura che è molto affine al relativismo e al nichilismo, tipiche espressioni del mondo postmoderno in cui viviamo, che è un mondo che muore, non solo culturalmente, come ormai diversi studiosi stanno dicendo e descrivendo, ma che muore realmente, come dimostra, per esempio, l'inverno demografico. Allora, teniamolo presente e cerchiamo di correre ai ripari prima che sia tardi, soprattutto per salvaguardare quegli ambienti buoni che esistono, ambienti che hanno capito che cosa sta succedendo, che si oppongono alla dittatura del relativismo, ma ambienti che spesso sembrano essere più inclini a litigare su cose opinabili che a cercare l'unità, a dividersi perché incapaci di rinunciare alle proprie opinioni, quasi come se queste ultime fossero sempre e necessariamente delle verità assolute. In un mondo che muore, invece di riscoprire il valore dell'umiltà, cioè della verità su se stessi, l'enorme ego che è presente in tutti noi cresce smisuratamente e diventa sempre più arrogante, producendo divisioni invece che collaborazioni anche fra i buoni. Teniamolo presente e cerchiamo di correggerci, perché anche questo è un aspetto importante nella battaglia per un mondo migliore. Buona settimana a tutti. Grazie. 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 Grazie.